Benvenuti e bentornati su Medioevo Militante, storie di Medioevo e medievalismi dal V al XXI secolo. Questo breve video è tratto da dissenso e presenza ereticale in Piacenza e nelle città padane tra gli anni 50 e 70 del 200 di Caterina Bruschi, che potete trovare in Studi sul Medioevo Emiliano, Parma e Piacenza in Età Comunale, al link in descrizione. È un libro della Madonna e mi piace un sacco ovviamente, come potete ben immaginare. Se apprezzate questo tipo di contenuto vi invito a iscrivervi sul canale YouTube o a seguire il podcast su Spotify che trovate sempre al link in descrizione e soprattutto a segnalarmi nei commenti di YouTube un tema specifico o un testo che vi piacerebbe sentire trattati. Nel 1252, lungo la strada tra Milano e Como, viene assassinato Pietro da Verona, domenicano e inquisitore incaricato da Papa Innocenzo IV, di organizzare la lotta all'eresia in Lombardia e nella Marca Genovese. A suo seguito vi era Raniero Sacconi, piacentino, ex eretico, convertito proprio da Pietro. Questo episodio darà via ad un cambio di qualità nell'azione pontificia nei confronti dell'eterodossia. La reazione papale è rapida e violentissima. Con le bolle ad extirpanda e malizia uius temporis, l'ufficio inquisitoriale viene riorganizzato e rafforzato e contemporaneamente viene invocata la guerra santa contro gli eretici. Nel frattempo a Piacenza diventa vertice di un fronte antipapale a seguito dell'alleanza privata fra Ezzelino da Romano e Oberto Pallavicino. Pietro Martire, a cui nel frattempo i Domenicani hanno eretto in un reliquario proprio a Piacenza, e Raniero Sacconi diventano baluardi di resistenza nella città emiliana, dove si intensifica l'opposizione al papato, che si traduce anche in un disinteresse o in una vera e propria protezione nei confronti delle comunità eretiche presenti in città e nel suo territorio. Per l'eterodossia la città emiliana e tutti i domini del Pallavicino diventano una sorta di zona franca. Gli anni 50 sono non a caso anni di grandi immigrazioni a motivo religioso dalla Francia. Le persecuzioni contro i catari erano andate intensificandosi, a partire dal massacro di due inquisitori dei loro famuli nel 1242 ad Avignone. Basti pensare che solo due anni dopo crolla sotto il fervore anticataro la fortezza di Montsegur, dove numerosi eretici e i loro protettori furono arrestati e giustiziati. Dopo questo episodio le inquisizioni ripresero vigorose e, nella loro attenta opera pastorale, diedero vita a complessi documentari tra i più importanti nella storia dell'eresia. Si tratta dell'inchiesta del 1245-46 di Bernard D'Eco e Jean de Saint-Pierre, in cui possiamo trovare gli interrogatori di 5605 testimoni. Quella di Ponce du Puyé e Jean de Gatine negli anni 60 e quella di Raymond de Plassac e Ponce de Parnac nel 1276-1279. Tramite queste carte possiamo dedurre che fra i principali interessi degli inquisitori vi fossero i rapporti internazionali tra le comunità eretiche francesi e quelle dell'Italia settentrionale, tema che in precedenza veniva soltanto sporadicamente menzionato. La Lombardia, espressione geografica di cui ho parlato in un altro video che trovate in alto a destra, sul vostro schermo, diventa così per gli inquisitori francesi una rete del dissenso, lo spazio sul quale vanno intrecciandosi le maglie della chiesa catara. Se dal punto di vista giudiziario gli inquisitori francesi non potevano agire nelle città padane o nel resto della penisola, comunque avevano un interesse investivigativo nel comprendere i meccanismi che regolavano l'eresia al di fuori del loro campo d'azione. Essi considerano infatti i fuoriusciti francesi non più semplici fuggiaschi, ma parte integrante di una vera e propria struttura politica. Mediante il precedentemente citato Raniero Sacconi, che ci ha lasciato sì delle fonti considerate anti-ereticali, ma frutto di un'esperienza diretta dell'eresia lombarda, riusciamo a definire un'immagine della chiesa catara a Piacenza, al cui vertice appare il vescovo Viventius. Costui è presente anche nelle testimonianze processuali francesi e riusciamo a identificarlo nella città emiliana negli anni 40, poi in Puglia nel 1264 e a Cremona nel 1267-68, accompagnato pubblicamente dal suo filius minor, Guillaume de Puy, e altri sacerdoti eretici francesi. Questo ci conferma che tra gli eterodossi lombardi vi fosse una rilevante presenza di fuoriusciti francesi e che potevano vivere praticamente alla luce del sole, all'interno dei territori cui vertici politici si opponevano direttamente alle politiche papali, come appunto accadde nella Piacenza del Pallavicino. La sensazione di relativa pace provata dai cateri in Lombardia è testimoniata anche da una lettera che il vescovo eretico di Cremona indirizza a quello di Tolosa durante le fatidiche settimane dell'assedio di Montsegur. Nel contesto della fuga alla ricerca di più rose e prospettive, Piacenza appare come una città frequentemente toccata dai cateri più esperti, probabilmente mediante la via che dal Coltenda sul confine portava a Genova e da qui in pianura. Grazie alle deposizioni processuali scopriamo anche che il viaggio doveva una vera e propria componente amministrativa. Era spesso necessario condurre con urgenza sacerdoti e predicatori dove era più richiesta la domanda di persone in grado di ufficiare il culto. Sempre mediante le testimonianze processuali scopriamo che i deponenti francesi del Doha citavano numerosi confratelli fuggiaschi incontrati a Piacenza, ma anche una rete di attività, contatti e luoghi d'ospitalità presenti in città. Nel borgo erano presenti degli auspicia, che agivano come centri di smistamento di fuggitivi e nuovi arrivati. Il fatto che si tratti di qualcosa di più importante rispetto a semplici rifugi è testimoniato dai numerosi nomi di sacerdoti e grandi personalità già condannate in Francia, che paiono ritrovarsi in queste sedi per organizzare strategie di fuga e sopperire alle necessità cultuali delle comunità catere lombarde. Queste pianificazioni erano sorrete sulle spalle dei nunci, corrieri indispensabili, altamente coscienti del territorio delle persone, capaci di condurre a spedizioni in tutta la Lombardia. Nonostante le fonti francesi siano molto attente a queste specificità della vita dei catere in Lombardia, dobbiamo riconoscere che esse, in qualità di atti giudiziari, avevano come scopo l'indagine della questione ereticale che coinvolgeva Francia e Italia. Pertanto, ad un occhio ingenuo, la vita dei catere fuggitivi può apparirci come piatta, completamente incentrata sulle relazioni e attività tipiche degli eretici. A ciò si aggiunge un rilevante ma relativo silenzio delle fonti italiane, che oltre ad essere molto più scarne rispetto a quelle d'oltre Alpe, appaiono principalmente nella forma di testi narrativi, come le cronache. All'interno di queste cronache l'eresia appare solo in superficie, coprendo una parte molto restretta rispetto al resto delle vicende narrate. Ciò ci permette di supporre che gli eretici a Piacenza, ma in realtà in tutta l'Italia settentrionale, fossero altamente integrati all'interno delle strutture sociali e politiche a loro coeve, tanto da non meritare l'interesse storiografico degli autori di cronache. Questo silenzio avvalora la teoria che vuole Piacenza e i territori di Bellini come luoghi di tranquillità per i cateri. Il clima di tranquillità inizia a sfaldarsi all'alba degli anni Sessanta del Duecento. La morte di Ezzellino da Romano nel 1259 e l'attentato alla vita di Raniero Sacconi ad opera dei Dellatore, Signore di Milano, rafforza il fronte papale nelle intenzioni e nei metodi. Nel dicembre 1260 Papa Alessandro IV con la bolla dei diletti filii pone il saccone sotto la protezione dei Vescovi di Lombardia, mentre nel 1265 e nel 1266 Papa Orbano IV nominerà otto nuovi inquisitori per l'Italia settentrionale. Il momento chiave della riscossa ortodossa è da identificare nel biennio 1266-67. Il cronicon Ghibellino dell'Anonimo Piacentino e il cronicon Maius di Galvano Fiamma ci testimoniano in questo periodo la cattura e l'esecuzione di numerosi eretici, oltre a una significativa quantità di provenzali rispediti in catene oltre le Alpi. In due modi quindi l'inquisizione opera in questo periodo nel Piacentino, mediante la pena capitale e il reimpattere forzoso. Questo caso non è isolato visto che le cronache di questo periodo ci ricordano esempi simili a Firenze nel 1267, Orvieto nel 68-69 e a Sirmione nel 1276. In questa prospettiva è utile menzionare un episodio D che ebbe luogo all'inizio della rivalsa pontificia, tramandateci dalle testimonianze del Doha. I catari Guillaume de Capellan e Pierre Guillaume di Roqueville vengono ricevuti dal vice cancelliere di Urbano IV, probabilmente per presentare delle richieste di indulgenza. Per assumere, la situazione che aveva visto gli eretici piacentini vivere in relativa tranquillità, fondata sul controllo territoriale del pallavicino, che impediva ingerenze papali di radicarsi in questa e in altre porzioni della Lombardia, permette agli eterodossi di sviluppare e strutturare strutture e istituzioni complesse ed esercitare una certa attrattiva sui loro confratelli d'Oltralpe, tanto da spingerli a veri e propri viaggi della speranza, allo scopo di poter praticare la loro fede indisturbata. Tra gli anni 60 e 70 del 200, la reinvigorita reazione ortodossa, rafforzata dal progressivo sfaldamento del fronte Ghibellino, porterà poi alla riscossa dell'inquisizione, che decimerà i vertici della chiesa catara, inferendo nel frattempo duri colpi alla base dell'organizzazione stessa. Avete seguito Medioevo Militante, storie di medioevi e medievalismi dal V al XXI secolo. Grazie per l'attenzione e a presto! Grazie per l'attenzione e a presto!